Consiglio Lampo questa mattina a San Nicola Arcella. La civica Assise ha chiuso l'iter per l'acquisizione del Palazzo dei Principi Lanza di Trabia, approvando la bozza dell'atto di attribuzione e trasferimento a titolo gratuito del bene dal demanio dello Stato alla disponibilità del Comune. Un percorso avviato poco più di un anno fa e che nei primi mesi del nuovo anno porterà la consegna delle chiavi per poi destinare il bene agli utilizzi che l'amministrazione ha già individuato e che individuerà. Nel mese di gennaio faremo la consegna delle chiavi dall'Agenzia del demanio al Comune. Sono tante le attività che abbiamo intenzione di fare all'interno del Palazzo. Sarà sicuramente il fiore all'occhiello non solo del Comune di San Nicola ma anche del territorio. Il Palazzo dei Principi torna così ad essere luogo simbolo di San Nicola e sede di attività istituzionali e culturali per tutto il comprensorio. Dopo l'approvazione del documento i consiglieri si sono salutati scambiandosi gli auguri di Natale anche se prima di entrare nel distensivo clima natalizio non sono mancati screzzi tra il consigliere di opposizione Forestieri e il vice sindaco Madeo. Sul tavolo, oltre ad un invitante panettone, le presunte accuse lanciate nel corso del precedente Consiglio Comunale da parte di Madeo verso Forestieri di evasione fiscale in relazione ai tributi comunali. Forestieri ha annunciato la richiesta di una commissione che valuti tutte le posizioni contributive dei consiglieri mentre il sindaco Mele ha preferito stemperare i toni. No, le beghe personali si devono sicuramente mettere da parte. Io auguro a tutti un buon Natale, un inizio di anno, un 2014 pieno di felicità a tutti i cittadini di San Nicola.